...presenta in Val di Sole per la prima edizione del Classica Festival. Prima voglio dire, scusatemi per il tempo italiano, perché vivo a Grazia, non parlo spesso l'italiano, ma io come artista qua è una grande gioia per me incontrare altri intonazionali musicisti regionali e di tutta Europa quasi. Per me è una grande esperienza fare musiche da camera qua nella mia regione quasi, Tredino a Dalice, e spero che sia una grande cosa, un grande futuro per tutto qua. Sì. Grazie.